Oggi abbiamo organizzato per la prima volta un evento dedicato alla colonia dal punto di vista turistico. Fino ad ora abbiamo fatto tantissimi altri eventi che riguardavano la cultura, adesso ci dedichiamo al turismo. Nel particolare Breslavia. Breslavia è una città bellissima, è inutile dirlo, è stata già capitale della cultura europea 2016 e oggi Palermo è capitale della cultura italiana 2018. Questo è uno dei primi punti in comune tra queste due città. Entrambe hanno dei siti UNESCO e sono collegati da un volo Ryanair. Allora da qua è venuta l'idea di iniziare il percorso amministrativo per riuscire a portare avanti il gemellaggio tra queste due città che ritengo possa portare giovamento sia dal punto di vista turistico a entrambe le città, sia dal punto di vista economico perché Breslavia è anche una città molto forte dal punto di vista economico e soprattutto un grande scambio culturale tra questi due paesi.